Bentornati in questa seconda qualificazione di Unreal Tournament 2 N4 sempre con il Dark Miphone e l'Oscuri Team Allora, se vedete, qua ci sono dei membri diversi da quelli che avevamo scelto sicuramente o comunque statistiche diverse perché ho reinstallato il gioco su un altro computer senza non pochi problemi perché francamente Windows 8 non mi supportava bene UT 2 N4 e francamente non mi supporta bene neanche adesso perché mi tocca aprirlo 3-4 volte prima che si avvigli il gioco e sarà, diciamo, in italiano come sempre, come vedete, da tutto però l'audio rimane in hang appunto perché non l'ho installato dalla mia versione Anthology ma comunque proseguiremo senza alcun problema allora, eccoci qua dov'è, fucile link oh, chi c'è qua sopra? aia figli di puttana allora, eccoci la nostra qualificazione come c'è Rock contro Perish e Nemesis che hanno già chiamato Rock me l'hanno già fatto a pezzi oppala, eccomi qua dove sei, ah eccolo lì Rock io ti lancio un missile no Rock, non mi morire ok, ho ucciso Nemesis corri, scappa c'è Perish prendo il cannone Flak the bigger cannone Flak eh mio dio, il Rock, ma sei proprio una chiavica lasciatelo dire ah, dimentico di dire che la difficoltà è sempre la stessa di discreto cioè quella predefinita faccio il solito giretto per vedere che non ci siano nemici in queste stanze e vaffanculo nooo mi hai rubato il killer Rock eh ciao no uh, c'è un fuggito a cecchino dov'è? più come BAM aspetta un attimo che qua c'è un e che che z eh vaffanculo mi sono dimenticato i comandi da tasso a tasso allora spendiamo un pò di di eh diciamo di mano per cambiare i comandi e vaffanculo perché mi lasci così? non ti piaccio? sei veramente un maleducato aia snap a raffo ah fanculo eh ma tutte e due no veramente non ti metto più in squadra con me perché mi rubicchi boom mi c'è a calacca boom boom aia eh 13,4 quando ci arriva? 30? ok 1 eh ma dai devi dare palle ah tanto passano sempre da questa parte dato che i nemici hanno diciamo una intelligenza artificiale migliore di tutte le lettere ma comunque non è che sono così temibili nel nel single player ma che non nelle ehm difficoltà maggiori oh ma di miseria ladra piu no oh minchia aveva preso il il potenziamento allora dove si buongiorno eh vaffanculo pedici vaffanculo veramente eh nella profonda del cuore vaffanculo aia uno e beh che cazzo pedici ma ti faccio entrare direttamente nella mia squadra eh oh tu ti infila se il trentesimo punto lo farro io mi incazzo veramente non può farmi in rocco il trentesimo punto no miseria no no dove che che cazzo aah ho trovato passaggio segreto figlio di puttana mi sono tirato anche una cannonata da solo che l'ha colpito ah l'ho colpito io meno male 22-8 ok chiudiamo e passiamo a Rajigar Rajigar secondo turno allora tata dai già vanno bene tutte e due tanto siamo solo alle qualificazioni minchia se ne frega contro i Golia a Marco piace GERONIMO 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 eh che cazzo fammi se li per me ti miro ti miro ti miro ti miro eh va a fanculo mi romano pure i chi mamma mia mia tua piccati questa palla di merda del cannone flak quanto siamo? vabbè quanto si arriva? 40 punti là c'è un mega scudo eccolo qui avete rotto il cazzo? eh hai rotto il cazzo anche tu viiii ah ancora non c'ho domestichezza cambiare velocemente l'arma e che cazzo mi ha tirato la super scarica col fucile shock comunque si parlando di FPS arena eh eh merda mi sono bloccato parlando di FPS arena appunto sto giocando molto in quest'ultimo periodo a quick live quindi se qualcuno va di fare qualche partita mi può cercare su quick live con il solito eh nome non ho fantasia a sceglierlo quindi se vi va sono lì ogni tanto molto più veloce di un realtor nel 2004 diciamo che siamo ai livelli di eh eh un realtor nel 299 molto bello molto veloce molto divertente wiii wiii 1 2 terzo dove corri vaffanculo vaffanculo mentre stanno cominciando a bartellare questi due eh ti lancio un missile domani col cazzo che ti lascio vaffanculo ho ucciso il re invece comunque tov muco 10 a 17 e buonanotte perché schiaccio 4 why tasto floor why allora dovrebbe essere qua sotto sicuramente eccolo qui che cazzo oppa danni doppi toh giorno colo lì in acqua ah era proprio dietro di me via brutus cosa c'è qua un altro scudo prendiamolo subito 40 punti siamo ancora meno 10 minchia mi ha tirato un missile in faccia scala via 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 puttana eh stavo tentando di fare l'eroe ma prendiamoci un po' di vita va uccolo lì merda ha preso lo scudo aia non sono neanche renato già mi mi bersagliate eh vaffanculo vado lì passi qua no tranquilli no problema eh buonanotte lo scudo ve lo sconfiggio via una granata nel sedere per te weee via ok velocità aia mi sono tirato l'unico missile che avevo in piena faccia prendo anche potenziamento guardo gli occhi e acazza poraggio distrutto acazza acazza